Le cartoline del 69esimo festival di Sanremo con la collaborazione di Sanremo News, quale successo non riscontrato? Oltre le aspettative abbiamo continuamente delle richieste, purtroppo la stampa ci sembrava già che fosse oltremodo capiente, invece abbiamo continue richieste e sono andato a Ruba, addirittura arrivano telefonate per farle spedire, perciò con questa intuizione, con questo partnership CNA e Sanremo News, con l'aiuto del cartoonista e amico Tiziano Riverso, un successone direi. Piacciono tutte e anzi vorrebbero addirittura vedere i presentatori del festival in diverse versioni, addirittura in versione artigiani. E non è detto che ci possa essere anche questa opportunità prima della fine del festival. Allora, tempi di realizzazione velocissimi perché abbiamo deciso tutti ogni quattro giorni più o meno. Abbiamo fatto un gruppo Whatsapp per decidere cosa fare e poi la realizzazione, insomma, un paio di giorni, ma perché poi avevamo i tempi tecnici per doverle stampare, capisci? E l'ispirazione è sempre quella, io sono 14 anni che vengo al festival con mostre, libri, cartoline, quest'anno e anche l'anno scorso. L'ispirazione è proprio, sono i personaggi del festival che sono un'icona di tutto quello che rappresenta lo spettacolo in Italia.